Bologna-Lazio, match della massima serie calcistica nazionale, disputatosi questo pomeriggio allo stadio Emiliano Renato Dall'Ara, ha parlato un po' a Brindisino, almeno per chi la gara l'ha seguita in diretta su Premium, la PTV Mediaset. L'arbitro del match infatti è stato Marco Di Bello da Brindisi, mentre la telecronaca è stata affidata a Mino Taveri, ormai famoso giornalista, anche lui made in Brindisi. Una coincidenza particolare che ha fatto inorgoglire i brindisini. Entrambe, l'arbitro e il giornalista, sono legatissimi alla loro città e lo hanno manifestato in diverse occasioni, evidenziando le bellezze del capoluogo messapico. Marco Di Bello, 34 anni, è nato a Brindisi il 12 luglio 1981. Il suo esordio in Serie A risale al 12 aprile 2012, in occasione di Bologna-Cagliari. A maggio scorso, il direttore di gara Brindisino ha ricevuto dalle sezioni AIA del capoluogo Emiliano l'ambito premio Giorgio Bernardi, conferito al miglior arbitro esordiente in A per la stagione 2013-2014. A luglio scorso, la consacrazione è come arbitro di Serie A. Mino Taveri non ha bisogno di presentazioni, giornalista sportivo, nato in video proprio a Brindisi sui schermi di Puglia TV, passa per Tele Lombardia, Tele Più, Sky, sino ad approdare a Mediaset nel 2005. E proprio su quegli schermi, questo pomeriggio, si è ritrovata la coppia tutta a Brindisina di Bello Taveri. Un momento esaltante per gli appassionati che nel periodo più buio del calcio brindisino vedono salire agli onori della cronaca sportiva e calcistica nazionale, proprio due biancazzurri. La notizia rimbalzata sui social network ha inevitabilmente fatto scattare numerosi complimenti e commenti manifestanti orgoglio di appartenenza. Purtroppo però è stata anche l'occasione per rimarcare la delusione e la rabbia di tanti brindisini che non riescono ad accettare come una città capoluogo di quasi 100.000 abitanti non abbia una squadra di calcio scomparso, come è noto, a causa delle tristi vicende legate al calcio scommesse. Non solo non esiste il brindisi nelle categorie professionistiche dove meriterebbe di stare, ma neppure nella massima serie dilettantistica. Un momento di riflessione e di speranza che sulla scia della positività dei brindisini famosi per il calcio, lo sport considerato il più bello e il più seguito al mondo, possa rinascere anche a brindisi. Grazie a tutti.